buongiorno a tutti questa lezione segue la lezione di presentazione che faremo durante le lezioni online e che riguarda il dialogo della natura di un islandese mi propongo in questo video semplicemente di leggerla insieme a voi così da aiutarvi nella lettura e sottolineare le frasi che sono a nostro avviso più significative quindi non ci sono spiegazioni su che cosa contenga il dialogo della natura non ci sono spiegazioni sulle operette perché questo lo lascio alla lezione che faremo in diretta ok bene iniziamo la nostra lettura un islandese che era corso per la maggior parte del mondo e soggiornato in diversissime terre andando una volta per l'interiore dell'africa e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno ebbe un caso simile quello che intervenne a vasco da gama nel passare il capo di buona speranza quando il medesimo capo guardiano dei mari australi gli si fece incontro sotto forma di gigante per distorlo dal tentare delle nuove acque vide da lontano un busto grandissimo che da principio immaginò dovesse dovere essere di pietra e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui molti anni prima nell'isola di pasqua ma fattosi più da vicino trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra col busto ritto appoggiato il dosso e il gomito a una montagna e non finta ma viva di volto mezzo tra bello e terribile di occhi e di capelli nerissimi la qual guardavalo fissamente è stata così un buono spazio senza parlare all'ultimo gli disse allora introduzione prima del dialogo che è un dialogo appunto tra la natura che è personificata in questa montagna gigante e un islandese questo islandese ha in testa di andare a trovare il luogo dove l'uomo possa vivere meglio e succede che durante i suoi viaggi quando era appunto nell'interiore dell'africa cioè vicino all'equatore nel mezzo dell'africa vide da lontano un busto grandissimo e più si avvicinava più si rendeva conto che quella non era una montagna ma era una donna appoggiata a una montagna questa questo essere che era che rappresenta la personificazione della natura parla con l'islandese e iniziano il loro dialogo natura chi sei che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita ricordiamoci infatti che quel luogo non era mai stato abitato e scoperto visitato da alcun uomo la natura chiede chi sei perché sei in questo luogo ignoto dove nessun uomo è mai venuto islandese sono un povero islandese che vo fuggendo la natura vo fuggendo la natura guardate che l'islandese non sa che quella montagna è la natura ok quindi sono un povero islandese che vo fuggendo la natura e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra la fugga adesso per questa natura così fugge lo scoiattolo dal serpente assonaglio finché gli cade in gola da sé medesimo io sono quella che tu fuggi ok l'islandese dice di essere fuggito per tutta la vita per scampare la natura spiegherà dopo perché e dice la natura facendo una similitudine come lo scoiattolo scappa finché cade in bocca del serpente assonaglio anche tu mi sei caduto in bocca sei caduto in bocca al tuo nemico io sono proprio la natura che tu vai fuggendo islandese la natura natura non altri islandese me ne dispiace fino all'anima e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere natura ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza ma che era che ti muoveva a fuggirmi dice la natura dovevi aspettarti che io fossi qui dove l'uomo non risiede io abito proprio laggiù dove l'uomo non c'è cos'è che ti ha portato a fuggirmi islandese tu devi sapere che io fino nella prima gioventù a poche esperienze fui persuaso e chiaro della vanità della vita e della stoltezza degli uomini i quali combattendo continuamente gli uni contro gli altri per l'acquisto di piaceri che non dilettano e di beni che non giovano sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini e infiniti mali che affannano e nocciano in effetto tanto più si allontanano dalla felicità quanto più la cercano quindi io sono un uomo che ha sempre fuggito la stoltezza degli uomini perché gli uomini si combattono tra di loro e raggiungono tra loro i mali che già la natura ha dato loro per queste considerazioni deposto ogni altro desiderio deliberai non dando moleste a chi che sia non disturbando nessuno non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato cioè non volendomi arricchire non contendendo con altri per nessun bene del mondo quindi non mettendomi in gara con nessun altro cos'è che deliberai vivere una vita oscura e tranquilla vogli isolarmi dagli esseri umani e vivere una vita oscura non nel senso di cattiva ma una vita appartata e tranquilla e disperato dei piaceri come di cosa negata alla nostra specie non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti quindi disperato il fatto cioè non avendo come di avendo la consapevolezza che non che non avrei potuto ottenere nessun piacere mi dedicai al fatto di cercare una vita quanto meno lontano dalle sofferenze non voglio ottenere piaceri ma voglio almeno avere una vita senza sofferenze con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni dalle fatiche corporali che ben sai che differenza è dalla fatica al disagio e dal viver quieto al viver ozioso e già nel primo mettere in opera questa risoluzione con obbi per prova come egli evano a pensare se tu vivi tra gli uomini di potere non offendendo alcuno fuggire che altri non ti offendano quindi subito mi resi conto come è impossibile anche se tu non offendi gli altri è impossibile che gli altri non ti facciano del male tu puoi essere l'uomo più buono del mondo puoi tentare di non offendere nessuno ma gli altri verranno sempre da te ad offenderti eccedendo sempre spontaneamente e contentandosi del menomo in ogni cosa del minimo in ogni cosa ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo e che questo menomo non ti sia contrastato quindi è inopportuno pensare che tu possa vivere tranquillo ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente separandomi dalla loro società e riducendomi in solitudine quindi questa è la prima esperienza che lui fa cioè separarsi dagli uomini vivere in solitudine cosa che nell'isola mia nativa cioè l'islanda si può recare ad effetto senza difficoltà l'islanda è uno dei paesi meno popolati del con una bassa densità di popolazione per le sue per la sua geografia molto aspre quindi dice non è stato difficile trovare la solitudine nella mia isola fatto questo e vivendo senza quasi vero un'immagine di piacere io non poteva mantenermi però senza patimento anche quando io mi dedico alla solitudine dice l'islandese soffro lo stesso perché perché la lunghezza dell'inverno l'intensità del freddo l'ardore estremo dell'estate che son qualità di quel luogo mi travagliavano di continuo mi tormentava il tempo e il fuoco presso al quale mi conveniva passare una gran parte del tempo mi inaridiva le carni e straziava gli occhi col fumo di modo che né in casa né a cielo aperto io mi poteva salvare da un perpetuo disagio quindi non sono gli uomini che gli danno fastidio ma è il clima neanche poteva conservare quella tranquillità della vita alla quale principalmente erano rivolti i miei pensieri perché le tempeste spaventevoli di mare di terra i ruggiti e le minacce del monte ecla il sospetto degli incendi frequentissimi negli alberghi come sono i nostri fatti di legno non intermettevano mai di turbarmi quindi non gli uomini ma il clima e le calamità naturali turbano l'islandese tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se medesima e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza e quasi di ogni altra cura che d'essere quieta riescono riescono di non poco momento e molto più gravi che le non sogliono apparire quando la maggior parte dell'animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile delle avversità che provengono dagli uomini attenti dice qua noi sempre patiamo le asperità del clima ma quando siamo circondati da esseri umani il nostro disagio si riversa più sugli altri esseri umani che non sul clima se noi togliamo a un uomo i come dire i litigi con gli altri esseri umani diventa ancor più insopportabile il clima pertanto veduto che più che io mi restringeva e quasi mi contraeva in me stesso a fine di impedire che l'essere mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo meno mi veniva fatto che le altre cose non mi inquietassero e tribolassero mi posi a cangiar luoghi e climi ok quindi secondo prima si isola secondo passaggio decide di cambiare luogo e clima per vedere se in alcuna parte della terra potessi non offendendo non essere offeso e non godendo non patire e a questa deliberazione fu immosso anche da un pensiero che mi nacque che forse tu non avresti tu natura tu natura non avrei non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali e di quei delle piante e certi tali luoghi fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria da dover essere imputate non a te ma solo a essi medesimi quando egli non avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi del alle abitazioni umani umane cosa dice qua sostiene cioè che la natura ha creato tanti luoghi e tanti climi diversi l'uomo è infelice e soffre quando vuole abitare dei territori che la natura non ha riservato a lui come dice qua ad esempio l'islanda quindi a questo punto lui non dà la colpa alla natura ma dice sono stato io uomo a essere stolto a voler andare abitare un luogo che non era consono all'essere umano quasi tutto il mondo cercato e fatta esperienza di quasi tutti i paesi eccolo qui che va alla ricerca del luogo perfetto in cui vivere sempre osservando il mio proposito di non dar molestia alle altre creature se non il meno che io potessi e per cui procurarla sola tranquillità della vita ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici quindi è stato ai tropici rappreso dal freddo verso i poli afflitto nei climi temperati dall'incostanza dell'aria infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove cioè ovunque andasse la sua infelicità e la sua sofferenza continuavano più luoghi ho veduto nei quali non passa un di senza temporale che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti non rei verso di te di nessuna ingiuria in altri luoghi la senerità ordinaria del cielo è compensato dalla frequenza di terremoti dalla moltitudine dalla furia dei vulcani dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese venti e turbini smoderati regnano nelle parti nelle stagioni tranquille degli altri furori dell'aria talvolta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo per il gran carico della neve tal'altra per l'abbondanza delle piogge la stessa terra fendendosi e mi si è dileguata di sotto ai piedi alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta l'ena dai fiumi che mi inseguivano come fossi colpevole verso di loro di qualche ingiuria molte bestie selvatiche non provocate da me con una minima offesa mi hanno voluto divorare molti serpenti avvelenarmi in diversi luoghi è mancato poco che gli insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa lascio i pericoli giornalieri sempre imminenti all'uomo e infiniti in numero tanto che un filosofo antico non trova contro al timore altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da temere vi fa qui un rapido elenco di tutti i luoghi che ha visitato e le difficoltà che in ogni luogo ha incontrato climi ma anche bestie che l'hanno afflitto terremoti vulcani nelle infermità mi hanno perdonato cioè le malattie ok quindi a questo si aggiungono anche le malattie con tutto che io cambiamo pagina fossi come sono ancora non dico temperante ma continente dei piaceri del corpo io soglio prendere non piccola ammirazione considerando come tu ci abbia infuso tanta e si ferma insaziabile avidità del piacere disgiunta dal quale la nostra vita come priva di ciò che ella desidera naturalmente è cosa imperfetta senza il piacere noi siamo imperfetti e d'altra parte abbia ordinato tu natura che l'uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alla forza e alla sanità del corpo la più calamitosa dagli effetti negli effetti in quanto ciasca ed una persona e la più contraria alla durabilità della stessa vita quanto più noi ci abbandoniamo ai piaceri pensate al piacere ad esempio della tavola tanto più noi mangiamo quanto più andiamo incontro a malattie e tanto più però è stata la natura di infonderci la volontà di saziare questi nostri piaceri ma in qualunque modo astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto io non ho potuto fare di non incorrere in molte diverse malattie delle quali alcune mi hanno posto in pericolo della morte altre di perdere l'uso di qualche membro o di condurre perpetuamente una vita più misera che la passata e tutte per più giorni o mesi mi hanno presso il corpo e l'animo con mille stenti e mille dolori nonostante il nostro islandese abbia deciso di non dedicarsi a nessun piacere tuttavia la malattia l'ha raggiunto lo stesso e certo benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo delle infermità mali per lui nuovi o disusati e infelicità maggiore che egli non suole come se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l'ordinario tu natura non hai dato all'uomo per compensarne lo alcuni tempi di sanità soprabbondante inusitata la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza cioè un'accusa questa alla natura tu dai le malattie all'uomo ma non dai dei grandi periodi di sanità cioè l'uomo è sempre affaccendato in nuove malattie nuovi disagi né paesi coperti per lo più di nevi io sono stato per accecare come interviene ordinariamente ai lapponi nella loro patria dal sole e dall'aria cose vitali anzi necessari alla nostra vita e però da non potersi fuggire siamo ingiuriati di continuo da questa con la umidità con la rigidezza e con altre disposizioni da quello col calore con la stessa luce tanto che l'uomo non può mai senza qualche maggiore o minore incomodità o danno starsene esposto all'una o all'altro di loro persino il sole e l'aria a lungo andare creano dei danni sull'uomo infine io non mi ricordo aver passato eccolo qua io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena laddove io non posso enumerare non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un'ombra di godimento cioè non so dirvi quanti siano stati perché non esistono i giorni in cui io ho vissuto senza un minimo di pena di preoccupazione mi avveggo che tanto ci è destinato è necessario il patire quanto il non godere cioè a noi è destinato tanto il patire quanto il non essere mai felici tanto impossibile il viver quieto in qualsiasi modo quanto il viver inquieto senza miseria e mi risolvo a conchiudere che tu sei eccola qua mi risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli uomini ok l'abbiamo già trovato anche in alcuni canti questo modo di esprimersi e degli altri animali e di tutte le opere tue inimica nemica che ora ci insidi ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri e sempre o ci offendi o ci perseguiti e che per costume e per istituto sei carnefice della tua propria famiglia dei tuoi figlioli e per dir così del tuo sangue e delle tue viscere pertanto rimango privo di ogni speranza avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fuggio si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi ma che tu natura per nessuna ragione per nessuna ragione non lasci mai di incalzarci finché ci opprimi gli uomini dopo un po lasciano perdere le persone che non vanno a dare loro fastidio la natura invece per nessuna ragione smette di dar fastidio all'essere umano e già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza vero e manifesto male anzi cumulo di male e di miserie gravissime e questo tuttavia non accidentale parla ora della vecchiaia ma destinato da te per legge a tutti i generi dei viventi preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza e preparato in lui di continuo dal quinto suo lustro in là con un tristissimo declinare perdere senza sua colpa in modo che appena un terzo della vita degli uomini un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire e voi ci siete dentro pochi istanti alla maturità e perfezione tutto il rimanente allo scadere agli incomodi che ne seguono tutta la vita è destinata maggiormente alla vecchiaia natura immaginavi tu forse questo uno del come dire del del passi più famosi di leopardi immaginavi tu forse che il mondo non fosse fatto per causa vostra ora sappi che nelle fatture negli ordini nelle operazioni mie trattone pochissime sempre ebbi e do l'intenzione a tutt'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità la natura risponde ma tu pensi che tutto il mio agire sia fatto per la felicità o l'infelicità dell'essere umano stolto io agisco dice la natura a prescindere dalla vostra felicità o infelicità quando io vi offendo in qualche modo e con qualsiasi mezzo io non me ne avveggo non me ne accorgo se non rarissime volte come ordinariamente se io vi diletto vi benefico io non lo so e non ho fatto come credete voi quelle tali cose e non fu quelle tali azioni per dilettarvi o giovarvi e finalmente se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie io non me ne avvedrei dice qui se anche mi avvenisse se anche accadesse che io estinguessi in un colpo solo facessi morire tutti voi esseri umani io neppure me ne accorgerei non me ne frega niente della vostra vita dice la natura islandese pondiamo caso che uno mi invitasse spontaneamente qua adesso l'islandese un po' se la prende no e dice mettiamo il caso che uno mi invitasse spontaneamente a una sua villa a casa sua con grande istanza con grande insistenza e io per compiacerlo vi andassi mettiamo il caso che un mio amico mi invitasse a casa sua con tanta insistenza io per non dispiacerlo ci andassi qui vi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso umida fetida aperta al vento e alla pioggia egli non che si prendesse cura di intrattenermi in alcun passatempo di darmi alcuna comodità per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostenermi e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare schernire minacciare battere da suoi figliuoli e dall'altra famiglia sequerelandomi lamentandomi io seco io con lui di questi maltrattamenti mi rispondesse forse che ho fatto io questa villa per te questa casa per te o mantengo io questi miei figliuoli e questa mia gente per tuo servigio e bene o altro a pensare che dei tuoi sollazzi e di darti le buone spese a questo replicherei quindi dice fino qua se un mio amico mi invitasse con insistenza io andassi a casa sua e lui mi mettesse a dormire in una cella fredda e anzi quando i suoi figli mi prendono in giro lui non dicesse nulla e anzi quando io inizio a lamentarmi dello stato in cui vengo trattato mi rispondesse io forse ti ho fatto ho costruito forse questa casa per te oppure mantengo i miei figli e questa gente perché siano tuoi servi è una similitudine naturalmente questo amico che invita nella casa l'islandese è la natura che l'ha accolto sulla terra ecco io replicherei questo vedi amico che siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio così fu in tuo fu in tua facoltà di non invitarmici questa frase è stupenda e racchiude proprio tutta quanta la filosofia di leopardi dice l'islandese all'amico che rappresenta la natura fuori dalla metafora se tu non hai fatto la terra la casa per me avevi tutta la facoltà di non invitarmi potevi non farmi nascere se la vita non è data se la terra non è adatta alla mia vita ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori non ti si appartiene egli di fare in modo che io quanto in tuo potere ci viva perlomeno senza travaglio e senza pericolo cioè se adesso mi ha invitato io sono nato sono qui non ti sembra che sia tua preoccupazione il fatto che io ci viva non dico felicemente ma senza grande difficoltà così dico ora so bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini piuttosto crederei che l'avessi fatto ordinato espressamente per tormentarli questa è la conclusione a cui giunge dopo aver fatto le sue pellegrinazioni per il mondo ora domando to io forse pregato di pormi in questo universo te l'ho chiesto forse io di nascere o mi vi si sono intromesso violentemente contro la tua voglia ma se di tua volontà e senza mia saputa e in maniera che io non potevo sconsentirlo né ripugnarlo tu stessa con le tue mani mi hai collocato non è dunque ufficio tuo se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato e che l'abitarvi non minoccia siccome non mi hai chiesto se volevo nascere mi hai buttato contro la mia volontà nel mondo non pensi che sia almeno a far tuo fare in modo che io non soffra e questo che dico di me dicolo di tutto il genere umano dicolo degli altri animali di ogni creatura natura tu mostri non aver posto mente tu sembri non aver capito che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di produzione distruzione collegate ambedue tra sé di maniera che ciascheduna serve continuamente all'altra e dalla conservazione del mondo quindi a cosa serve il mondo ha un ciclo infinito di ricostruzione distruzione ricostruzione distruzione del mondo il quale sempre che cessasse l'una o l'altra di loro verrebbe parimente in dissoluzione pertanto risulterebbe di suo in suo danno se fosse in lui cosa libera da patimento sarebbe dannoso se noi non soffrissimo per il mondo sarebbe dannoso perché non ci sarebbe distruzione senza distruzione non ci sarebbe rinascita islandese codesto medesimo modo ragionare a tutti i filosofi la stessa cosa l'ho già sentita dire dai filosofi ma poiché quel che è distrutto patisce e che è quel che distrugge non gode e a poco andare è distrutto medesimamente dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire a chi piace o a chi giova codesta vita infelicissima dell'universo conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono qual è il senso se chi distrugge soffre e chi è distrutto soffre qual è il senso della vita a questa domanda terribile che è la domanda di tutti noi di fronte al al mondo cioè se soffriamo così tanto non potevamo non nascere la natura non risponde vedete guardiamo che cosa succede mentre stavano in questi simili ragionamenti e fama che sopraggiungessero due leoni così rifiniti e maceri dall'inedia dalla fame che appena ebbero forza di mangiarsi quell'islandese come fecero e presone un poco di ristoro si tennero in vita per quel giorno ma sono alcuni che negano questo caso e narrano che un fierissimo vento levatosi mentre che l'islandese parlava lo stese a terra e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia sotto il quale colui disseccato perfettamente e divenuto una bella mummia fu poi ritrovato da certi viaggiatori e collocato nel museo di non so quale città d'europa le operette morali sono straordinarie anzi vi invito a leggerne perché sono veramente delle riflessioni filosofiche altissime e questa è la riflessione proprio sul senso della nostra vita ok bene se ci sono domande fatemele io inizio a caricare questo video anche se la spiegazione l'introduzione la faremo poi insieme nel senso che se state guardando questo video prima della spiegazione l'introduzione non temete la faremo poi quando torneremo da pasqua vi auguro una buona giornata a tutti come sempre se ci sono domande grazie a tutti